Alvia i lavori sulla Rivoltana. L'assessore De Nicola ha illustrato in conferenza stampa il dettaglio degli interventi e percorsi viabilistici alternativi. Ma perché si stanno facendo questi lavori? Perché sono lavori previsti nell'accordo di programma della Brebemi datato 2007. La Rivoltana è una strada provinciale particolarmente congestionata. Ad aprile arriverà la nuova autostrada Brescia-Milano, ma arriverà all'Arco Temma. Da lì a Milano c'era una strada che già così non era adeguata. Figuriamoci quando arriverà il flusso dell'autostrada Brebemi. A questo punto, nell'accordo di programma del 2007, fu deciso che a spese della Brebemi, su progetto della Brebemi, venisse riqualificata la Rivoltana e la Cassanese. Le stiamo riqualificando. E' come ristrutturare un appartamento vivendoci dentro. Per i pendolari che lavoreranno fino ad agosto saranno problemi abbastanza brevi e semplici. I problemi saranno da settembre in avanti e dureranno sicuramente fino ad aprile 2014. Come si esce dai problemi? Si esce utilizzando per questo periodo la linea ferrata. Questa è l'unica modifica significativa. Le linee che vengono da Cremona si fermeranno alla stazione di Melzo e quindi raggiungeranno Milano allo stesso costo utilizzando il passante ferroviario. Ogni 15 minuti parte un veloce collegamento con Milano. Le merci invece viaggeranno come sempre, perché là ci sono i luoghi di origine e destinazione delle merci. Non possiamo mettere le merci sul treno. Il resto abbiamo realizzato una corsia dedicata al trasporto pubblico per raggiungere dall'aeroporto Forlanini il quartiere San Felice. E poi abbiamo messo in campo una serie di iniziative per tentare di decongestionare una situazione comunque critica. Il suggerimento è molta pazienza fino ad aprile e poi avremo una strada riqualificata, efficiente e adeguata ai bisogni degli utenti.